In Stato Tecnico c'è tanto di Marco Villa, tantissimo di Marco Villa, nei risultati che stanno ottenendo i nostri caravagati. E allora il passaggio al secondo chilometro, 154-308 per la Danmarca, noi abbiamo fatto un 154-166. Meglio del tempo in 2000 metri fatto segnare indietro. Adesso la Danmarca è davanti, ma è con tre uomini e contro uomini, anche in Italia, infatti si è sganciato dopo il lancio Francesco Lamona. E ora rimetta anche tantissimamente preziosissimo il ruolo di Simone Corsoni, perché nel finale potrà lui tenere unito il termino, perché sarà lui sulla moda di Filippo Tanto. Quattro giri nella confusione. Dai adesso! Troppo! Con la Danmarca, che adesso però ha preso un buon vantaggio. Attenzione. Non so possibile, troppo. Dai, dai, dai! Adesso eccolo qua, che arriva davanti il Ganta e bisogna... Dai, insieme! Dai, insieme! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! E la provo, cazzo! Dai! Eh, dai! Oh, cazzo. Dai! Due! Dai, tipo! Dai, dai, noi! Dai! Dai! È già la 5, la 5, la 5 ha una 6! D'orrianya! Bravo! Bravo ragazzo! Ti succedo? Però, bravo ragazzo, bravo!